tortona è sicuramente una squadra una corazzata perché ha due americani molto bravi molto forti e un gruppo di italiani degno di questa categoria non per nulla sono la capolista e noi comunque arriviamo da una buona prestazione corale a Milano soprattutto in difesa ed è questa secondo me la chiave per competere con una squadra di alto livello come Tortona appunto nelle file di Tortona militano due ex conoscenze bianconere Agustin e Fabi che al momento però purtroppo è fermo per infortunio e Giulio Gazzotti con il quale è diviso l'esperienza in bianconere nella passata stagione che ricordi hai di questi giocatori? Certo sicuramente sono due bravissime persone e io personalmente appunto mi sono trovato molto bene con Gazzotti è arrivato in corsa e mi sono subito diciamo affezionato alla persona secondo me potevamo fare molto bene se la stagione sarebbe continuata insomma e quelli saluterò comunque sicuramente La gara di giovedì di domani sera alle 20.45 a Tortona sarà importante anche in chiave Coppa Italia la più infatti non è ancora matematicamente qualificata le fanalette che si disputeranno dal 2 al 4 aprile in una sede ancora da definire avete cominciato a parlarne negli spogliatoi o adesso siete concentrati solo ed esclusivamente sul campionato? Sì chiaro che sappiamo questa cosa qui che non siamo appunto matematicamente qualificati a Coppa Italia abbiamo sempre parlato da tutto l'anno che dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni ai playoff chiaro che sarebbe un traguardo comunque importante perché a ricordi l'Apu in A2 è arrivata una sola volta in Coppa Italia quindi sarebbe un traguardo grazie a tutti